È un compleanno, è un compleanno per il festival che festeggeremo in tanti, non soltanto i viaggiatori ospiti che racconteranno le loro storie ma anche forse soprattutto chi il festival lo fa da dieci anni e forse questa è la prima follia. Parlo di follia perché follia sarà proprio la nostra direzione di viaggio ovvero la direzione tematica e tutti gli ospiti che chiameremo parleranno proprio di follia, chi in senso positivo come genialità, creatività perché la follia è anche questo, come la follia ha anche una declinazione negativa, la follia di questi tempi e la guerra e la violenza però non sta a me raccontare le angolazioni e le mille declinazioni della follia ma sarà veramente il ventaglio di ospiti che stiamo contattando in questi giorni e che ci raggiungeranno a settembre, ottobre nei sette comuni che ospiteranno il festival del viaggiatore. Viaggiare per noi del festival e chi ci raggiunge al festival è un percorso, è un'esperienza, è uno stare insieme, un incontrarsi quindi non è soltanto uno spostarsi. Poi le due cose possono andare naturalmente assieme perché il vero viaggiatore è colui che si sposta per conoscere, per assimilare, per vivere emozioni diverse e quindi noi quest'anno andremo in Portogallo, creiamo questo ponte, diciamo un ponte culturale ma sarà soprattutto un ponte di amicizia perché dal Portogallo porteremo una guida, porteremo dei musicisti e porteremo una narrazione, un racconto di Lisbona in maniera particolare attraverso lo scrittore che più l'ha raccontata e rappresentata, i mille volti di Lisbona raccontati appunto e descritti da Pessoa. Un aggettivo per definire la decima edizione del festival? Forse un'emozione grandissima, una nascita ogni anno, una gestazione sicuramente piena di momenti di tensione, di ansie come precede sempre una nascita ma ad ogni nascita quindi ad ogni edizione sempre una fortissima emozione. La decima edizione ci farà impazzire? Di gioia, ci farà impazzire, ecco una declinazione della follia positiva, sarà sicuramente una grandissima occasione per stare insieme, siamo in tanti, dietro il festival viaggiatore ci sono tante persone, ognuno al suo posto, è un piccolo ingranaggio di questo orologio che va avanti a dieci anni è arrivato la decima edizione. Quindi sì, saranno tre weekend in sette comuni pieni di gioia, di emozioni e di follia. Ai volontari quest'anno faremo organizzare ovviamente tutti i nostri eventi, cercare di dare il nostro meglio come sempre, di divertirsi, di mettere a proprio agio tutti i nostri ospiti e di renderlo indimenticabile visto che è il decimo anniversario del festival del viaggiatore. La difficoltà è che tutto funzioni a perfezione ad ogni evento, quindi che ci sia tutto in loco per ogni evento, che tutti i volontari sappiano esattamente il loro ruolo, cosa fare e che i nostri ospiti si divertano senza nessun inconveniente. La cosa che ricordo con piacere è il sentirsi una famiglia, il sentirsi a casa. Noi quando facciamo il festival adesso siamo alla prima riunione dei volontari e ci sentiamo a casa. Durante il festival è come se fossimo a casa nostra non ha importanza se siamo in Villa Cipressina, se siamo agli Armeni, se siamo in qualsiasi luogo. Noi siamo a casa e per noi è bellissimo, per noi è vita. In una parola, come sarà la decima edizione delle feste? Un aggettivo? Un aggettivo? Sicuramente non sarà normalità. Non posso dire pazzia, né follia, ma sicuramente non normalità. Una gioia continua, un continuo crescendo, un bellissimo gruppo di lavoro, sempre in aumento perché ogni anno ci aggiunge qualcuno e una grande amicizia, un grande lavoro di squadra. Il festival del viaggiatore mi ha dato proprio la possibilità di tenere i miei piedi all'interno di una parte culturale importante che è proprio il festival del viaggiatore. In questi dieci anni qual è l'ospite che vi ha colpito di più? La cucinotta è stata una sorpresa perché come la si vede in televisione ti fai un'idea e invece dal vivo è stata veramente una sorpresa. E poi nada, nada ma l'anima è stata anche lei un'altra sorpresa perché non si può dire altro. Io in realtà non saprei, nel senso che per me è stata una sorpresa ogni anno, per me è stata una sorpresa lavorare con loro, per me le personaggi sono loro, le mie compagne. E dopo ovviamente conoscere dei personaggi famosi, delle persone famose è arricchente perché allarghiamo il nostro mondo. Grazie a tutti i nostri amici.